Svolta sull'economia circolare in Toscana, dove sarà realizzata la prima bioraffineria per trasformare senza emissioni nocive il combustibile solido secondario, ricavato dai rifiuti urbani e dalle plastiche, in biometanolo, cioè in carburante, da mettere in commercio. Lo prevede il protocollo presentato dal presidente Enrico Rossi e dall'assessore all'ambiente Federica Fratoni, con cui Eni si impegna in tre anni a investire 250 milioni di euro per realizzare la bioraffineria nel suo sito di Livorno. Un altro accordo impegna poi Alia e il gestore dei servizi ambientali a conferire la sua quota di rifiuti nell'impianto secondo il principio di prossimità. I rifiuti, cioè, devono provenire dalla Toscana. Abbiamo trasformato il rifiuto in una materia seconda che rientra nei processi produttivi. Iniziamo la strada per un cambiamento del sito dell'Eni di Livorno in direzione di una bioraffineria, puntiamo sulla raccolta differenziata e quindi sul riutilizzo dei rifiuti. La bioraffineria sarà inizialmente alimentata da 200 mila tonnellate di scarti e, a detto Rossi, archiverà l'inceneritore di case Passerini, con la conseguenza, ha aggiunto il presidente, che l'area fiorentina si dovrà far carico della selezione dei propri rifiuti. L'obiettivo della regione, poi, è quello di arrivare, entro il 2030, all'80% di raccolta differenziata, con la possibilità di trasformare il 5% della parte restante in combustibile solido secondario e di smaltire il resto in discarica e nei termovalorizzatori esistenti. La regione toscana crea le condizioni affinché Eni, in particolare in accordo con Aglia Spacqui, quindi con un grande gestore industriale della Toscana centrale, possa realizzare un impianto proprio per la produzione di questo biocarburante che, se non prodotto in loco, comunque verrebbe importato dall'estero. L'accordo con Eni, che sarà inviato ai comuni di Livorno e Colle Salvetti, prevede anche altri 120 milioni di euro di investimenti, 30 all'anno, per migliorare sul piano ambientale la raffineria livornese, ridurre le maleodoranze e creare nella darsena petrolio un impianto di gas naturale liquido. Grazie.